Bene ragazzi, fin qui ci siamo arrivati vivi, adesso cominciano le cose un po' più contorte perché volendo individuare qual è il paese da cui cominciare le indagini dobbiamo capire dov'è che combacia il traffico dei polli e un'alta criminalità avendo due colonne a disposizione, quindi count con il numero di crimini e value con il valore del transato mi può convenire elaborare una metrica unificata e io vi propongo questa potete tranquillamente inventarvene una che vi sembra sensata e questa qui mi serve per farvi vedere le operazioni tra le colonne mi preparo una metrica che si chiama Criminal Chicken Metric, CCM eccola qua, quindi creiamo una nuova serie nel data frame come la calcoliamo questa Chicken's Crime Metric? la calcoliamo al momento semplicemente moltiplicando il valore del transato di polli con il numero dei crimini registrati quindi Criminal Traffic Value Extended per Criminal Traffic ok, vediamo un po' come è avvenuto fuori il data frame magari selezioniamoci solo le colonne che ci interessano Criminal Traffic voglio vedere soltanto il paese l'anno il valore così come l'abbiamo calcolato prima il conteggio di crimini e la mia Chicken's Crime Metric qui vengono numeri un po' grossi quasi quasi semplifico la metrica me la porto su numeri più bassi tanto facendo la stessa divisione per tutti i record la differenza non c'è ed è una metrica totalmente arbitraria quindi godiamocela visto che è una delle poche metriche arbitrarie che ci possiamo inventare diviso un milione vedendo tutti questi zeri direi che può andare ok, altra cosa da fare ragazzi è concentrarci su una delle varie misure che ci sono qua dentro qui c'è Import Quantity Export Quantity Import Value Export Value io vi propongo di concentrarci sul numero di polli esportati quindi indipendentemente dai soldi che ci hanno fatto e indipendentemente dagli import concentriamoci su quantità esportate di polli quanti polli sono stati esportati filtro quindi il mio data frame ulteriormente lo filtro anche per tempo direi così possiamo mandare ai nostri agenti segreti magari gli ultimi 3 o 4 anni di traffico non tutta la sleppa che abbiamo lì dentro Recent Filter gli anni recenti Criminal Traffic Year diciamo dopo il 2013 di modo che abbiamo 3-4 anni da prendere in considerazione e non prima poi facciamo anche un filtro sulle quantità esportate Criminal Traffic fatelo come esercizio ragazzi prima di vederlo se vi va Element uguale Export Quantity adesso questi due filtri li devo mettere in End Recent Traffic uguale Criminal Traffic e uso come filtri proprio questi due Recent Filter End Export Filter vediamo che è successo abbiamo effettivamente qui soltanto Export Quantity qua come esercizio provate a verificare che l'unico valore contenuto dentro la Series Element sia solo Export Quantity e verificate anche che gli anni siano effettivamente solo sopra il 2013 come le facciamo queste cose recent traffic di year.unique eccole qua 14, 15 e 16 la stessa cosa la posso fare per Element per vedere quali sono le quantità Export Quantity ricapitolando ragazzi ho incrociato due dataset mi sono inventato una metrica e adesso sto lavorando sui dati per andare a cercare e trovare esattamente quello che mi interessa nam Se fai un po' di